Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi live reaction di Juventus-Napoli, il momento più importante della nostra stagione. Dobbiamo chiudere questo campionato, i punti li abbiamo visti, la classifica l'abbiamo vista e siamo con nonno Stefano. Oggi ragazzi una partita più che importante a Torino. Sappiamo cosa ci aspetta, sappiamo cosa dobbiamo raggiungere. Napoli è qua, Napoli oggi non può fallire. Dai ragazzi ci vediamo con il momento più importante della live reaction, cioè il pronostico con l'ingresso in campo dei calciatori, le formazioni e l'inizio del big match tra i bianconeri e gli azzurri. Forza ragazzi, è arrivato il momento più importante della partita, il pronostico. E allora direi di lasciare a te la parola del pronostico di stasera. Stasera siamo prudenti, uno a uno. Uno a uno. È solito dire che il Napoli vince, stasera va di Parigi. Ultimamente non ci hai preso perché non abbiamo vinto, per cui non ci ha preso. Un marcatore, chi segna del Napoli? Che è la schede di aspettare. Oh, il ritorno al gol di Kvicia. Sarebbe spettacolare. E quindi il tuo pronostico è uno a uno. Ragazzi, ci vediamo con le formazioni. Forza Napoli. Le squadre sono scese in campo e il Napoli si iscrive con un 4-3-3. Meret, Olivera, Kim, Juan Jesus, Di Lorenzo. Al centrocampo vanno Lopotka, Anguissa e Dombele. L'attacco è formato da Quaraskelia, Lozzano e Osimen. Ci sono dei cambi rispetto alla scorsa partita. Gioca Lozzano e non Politano perché è infortunato. Mario Rui, infortunato, non gioca. È sostituito da Olivella. Non c'è Rachmani che anche lui non era al top della condizione. Gioca Juan Jesus. Out anche Zielinski e gioca Dombele. Sorpresona. Io sono contento, onestamente. Contento di vedere Dombele oggi. Dombele e Anguissa, vediamo un po'. Dombele e Anguissa, tutte e due. Speriamo bene. Qualcosa bisogna cambiare. Sì, qualcosa bisognava cambiare. Sono d'accordo con il mister che oggi ha fatto una formazione un pochino diversa. Vediamo. Speriamo bene, speriamo bene. Inizia il primo tempo, possesso palla della Juventus che prova subito a scambiare. Ora il Napoli, dai aggressivo, dai ragazzi. Manca poco oggi per fare la storia. Forza Napoli. Andiamoci a prendere questi tre punti. Che io ci credo. Dai. Quadrato, quadrato, quadrato. Lo salta, quadrato. Sinistro, Meret. Parata di Meret. Subito squillo di quadrato. Lozzano. Va da Dombele, c'è spazio. Dombele col sinistro. Palla alta. Troppo alta. Kostic. Attendi a Kostic che la mette in mezzo. Di là è scoperto. Milik di testa, Meret. Lozzano. Lozzano la mette in mezzo. Cerco Simen. Quaraschelia di testa, Parascesni. Era arrivato. E' per poco qui. Lozzano. Lozzano. Tre contro due. Lozzano. Lozzano. Il sinistro. Ma dalla a Quaraschelia. Dalla. Ma dalla a Quaraschelia che è libero. Cristo. Ma non è possibile. Cioè Quaraschelia libero. Tirava in borta da solo. Sì ma anche Quaraschelia era libero. Dai. Calcio di punizione per il Napoli. E' interessante questo se lo facciamo bene. Quaraschelia. Quarra la mette in mezzo. Aveva tirato. Finito il primo tempo. Juventus Napoli 0 a 0. Parto io. Guarda. Un bel primo tempo. Non ci siamo. Non ci siamo però. Non ci siamo. 10 di 9 in attacco. Perché non tiriamo. Perché non arriviamo a concludere in borta e a renderci pericolosi. Perché se no non stiamo giocando male. Cioè io è quello che mi ripeto da partite. Manca l'ultimo passaggio. Sono d'accordo. Io mi ripeto da partite che stiamo giocando bene. Cioè noi stiamo facendo una buona partita. Costruiamo bene. Giochiamo. Arriviamo su. Ci manca sempre quell'ultimo tocco. Quell'ultima cosa per segnare. Sempre quell'ultima cosa lì. Finora che ne pensi? Pensi che... Eh. E che mancano le conclusioni. Mancano le conclusioni. Loro non si sono resi troppo pericolosi. A parte una o due volte dove hanno avuto quell'occasione lì di arrivare a segnare. Nel secondo tempo faresti i cambi subito. Io subito no. No, no. Aspettate. Perché la squadra non sta andando male. Poi che ci metti. È vero, è vero. Dai. Più incisivi. Ci vediamo nel secondo tempo. Inizia il secondo tempo. Possesso palla del Napoli che prova solo ad andare offensivo. Allora ragazzi. Io nell'intervallo ho rivisto gli episodi. Cioè quello di Gatti è rosso cento volte. Cioè tirava uno schiaffo a quagaschere. Io lì nella partita ho visto uno schiaffo ma non c'ho troppa importanza. Ma è cento volte rosso. Cioè non è possibile il VAR non veda una roba del genere ragazzi. Cioè qui non se ne può più. Cioè io qua non ho parole. Non ho veramente parole. Spieghiamo in un buon esito della partita. Perché se no veramente mi tocca fare il solito post partita. Lozano grande finta. Lozano. Bella l'apertura per Quagaschelia. Quagaschelia stoppa. Quagaschelia. Quagaschelia finta. Quagaschelia Scesni. Grande azione del Napoli qui. Bravi bravi. Bravo Napoli. Don Belen. Don Belen. Don Belen. Don Belen. Diviazione. Palla fuori per pochissimo. Ma dati alla Quagaschelia. Ma è un'altra volta solo. Cioè mamma mia. Io la devo imbazzire ogni partita. Calcio angolo per il Napoli. Quagaschelia. Gioca vicino. È uno schema. Oliveira la mette in mezzo. Di testa. Di Lorenzo Scesni. Osimane. Osimane per Quagaschelia. Quagaschelia. Quagaschelia col destro. Ma puoi segnalare da lì pure. Non è possibile. E dagli puoi. Quagaschelia. Quagaschelia. Quagaschelia se centra. Quagaschelia col destro. La parola rimane lì. Osimane. Fuori. Mamma mia. Ancora Anguissà. Ancora Anguissà. Anguissà. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Cerca Elmas. 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 Dietro Anguissà. Torna da Elmas. 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 Dribbling. E dalla. Dalla. Di Lorenzo. Elmas. Elmas. Fa tutto da solo. Osimane. Osimane. Destro palo. Palo esterno. No. Io non arrivo. Non arrivo. Calcio d'angolo per il Napoli. Zielischi. La mette in mezzo. Di testa. Osimane. Scesni. Io non ci voglio credere. C'è Osimane. Osimane. Palla fuori di poco. Io non ci voglio. C'è io non ci credo più. C'è capisci che è impossibile. C'è non entra sta palla. Zielischi. Qua la schelia. Elmas. 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 Destro di Elmas. Palla alta. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Ero sicuro. Ero sicuro. Rolti di Maria. Guarda. Ero sicuro. Ero sicuro al 100%. Io. Ero sicuro al 100%. La partita stradominata come al solito. E segnano loro. Al 100%. Ero sicuro. Complimenti. Complimenti. Guarda. L'arbitro torna dal VAR. A me sembra fallo sullo vodka. Dopo non è che voglio dire qualcosa di scandaloso. Ma a me sembra fallo sullo vodka. Vediamo. Vediamo cosa dice l'arbitro. È fallo. Annullato il gol a Di Maria. Giusto così. Hai fatto pena comunque. Hai fatto pena comunque. Giusto così però. Calcio di punizione per il Napoli. E Andrazzi e Rischi. A me sembra lontano. A me sembra lontano. Vediamo. Dici che prova il tiro? Zielischi parte lo stesso. Czesni. Rabiot. Rabiot. Ancora Rabiot. Che va da Chiesa. Chiesa. Chiesa lo passa. Chiesa in mezzo. Vlaovic. Gol della Juve. Si è alzata la bandierina. Tacco per Zielischi. Che rivalo sui men. O si men. Czesni. Non ci si crede. Anguissa. Raspadori. Zielischi. Ancora Zielischi. Finta. Apre da Elmas. Elmas la mette in mezzo. Per Raspadori. 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 Siamo avanti noi. Siamo avanti noi. Te l'avevo detto. Raspadori. 1-0 Napoli. Al 94. Jack. 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 E siamo avanti noi. Napoli avanti. Jack. Rimessa al fondo per noi. La palla è andata fuori. Arbitro ti prego. Ti prego. Non ce la faccio più. Io sono stanco oggi. Oggi sono stanco morto. Per favore. Basta. 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 Finito. Per favore. Manca poco. Manca poco. Io non ce la faccio più. È tornato. È tornato a lei. È tornato a lei. Attenzione. Rimessa al meretto. Fischietto. Fischietto. Fischietto in bocca. È finita. Abbiamo vinto lo stadium. Abbiamo vinto lo stadium. E lo scudetto. Si avvicina tantissimo. Mancano 5 punti. Grazie ragazzi. Questa vittoria per me è storica ragazzi. Questa è storica. Il Napoli ha vinto lo stadium. Con Giacomino e Aspadori. Dai Napoli. Dai. Dai.